Quando si passa davanti alla Copp c'è un signore nero e questo signore domanda sempre la carità al quale io rispondo ma perché non torni al tuo paese? Ma perché non vai in Africa dove te gai le banane tutto bello comodo dove se c'è da andare al gabinetto vai in un posto all'aria aperta dopo due ore non c'è più niente ma cosa fai qua in mano di tutta questa gente? E lui mi guarda sempre con un grande sorriso e allora penso sempre ma tutta questa gente che parte dall'Africa, che viene da noi, che crede di trovare da noi il meglio, il meglio, se sapesse tante cose probabilmente non partirebbe nemmeno. Allora il problema degli immigrati, secondo il mio modesto parere, è veramente un problema ma è un problema da risolvere nei loro paesi. Noi non possiamo ospitare gente con abitudini diversi, clima diversi, tutto diverso, povera gente. E c'è un contrasto, però anche la Lega e tutti questi che non li vogliono io faccio una domanda, se uno di questi contrari fosse al governo e ci fosse un barcone con mille immigrati che sta per affondare, con sopra di me cosa farebbe? Li salverebbe o li lascerebbe andare a fondo? Li salverebbero, non c'è niente da fare. Il problema, secondo il mio parere, è che bisogna andare là ma siccome non hanno il coraggio, siccome ci sono troppi interessi, la Cina per l'inversa, l'America per l'altro quell'altro dice ma c'è l'Isis e chi è che gli dà le armi l'Isis? Il Parisi per caso gli dà il Galas? Noi non gli erediamo le armi, qualcuno gliele deve dare perché tra l'altro sono armi talmente sofisticate talmente sofisticate che non possono venire che da paesi sofisticati. Quindi bisogna andare là, bisogna, secondo il mio modesto parere, che questa gente abbia finalmente i c***i e non sia della gente c***a e dica all'Inghilterra, signora Inghilterra o signora Russia, facciamo un corpo di spedizione importante e si va là a risolvere i problemi. Ci saranno morti che saranno morti ma saranno meno morti di quelli che succedono adesso, di che una nave affonda 800 morti. Io non mi sento di non accogliere e vi dirò una cosa, che molto tempo fa i miei figli, anzi mia figlia, mi ha detto papà devi vedere New York, non ci ha aggiunto, vista la tua età, prima di morire è meglio che te vedi l'America. Questo non ce l'ha aggiunto ma era facilmente intuibile. E allora sono andato a New York e lì mi sono accorto e sono stato felicissimo. Perché ho capito che cosa saremo noi tra 15 anni. Perché quelli bianchi sembrano gente con la leucemia, quando vedevo un bianco quelli le malà. Perché è tutta gente di colore, non nera, ma sono più abbronzati perché parte sono del Venezuela, parte del Brasile, parte sono indiani, parte sono gialli. Quindi c'è una mescolanza tale di popolazione, per cui uno non ha la sensazione di essere in un paese europeo, dice ma chi se nel paese africano, in un paese multietnico. Ma cari signori, un ordine e una disciplina, poliziotti non ho incontrato in gran pochi, io ho incontrato pochissimi poliziotti. Ho girato di notte, alle due di notte in metropolitana, in mezzo a tutta gente di colore. A un certo momento si è aperta la porta e c'era un meccanico con la barbetta come il nostro Galas e l'ho visto salire che era in tutta, di questo che il Galas ha leucemia, è ammalato, bianco, tutti di colore. Noi altri quattro che erano sul vagone della metropolitana, ragazzi, sembravamo tutti ammalati, questa è la verità.